Il secondo dibattito TV tra Donald Trump e Hillary Clinton, il più duro e più aggressivo mai visto negli Stati Uniti, non è stato il punto culminante della guerra tra i candidati, è invece fatto da volano ad un nuovo round d'attacchi proferiti a distanza dai rispettivi pulpiti durante i comizi elettorali. Dopo il faccia a faccia, Trump perde l'appoggio anche dello speaker della Camera, Paul Ryan, e la forbice del vantaggio di Clinton si estende dal 3 all'11% secondo i sondaggi, ma per Trump anche quelli fanno parte del complotto ordito dal sistema. C'è una folla come voi che mi seguo ovunque in Ohio, in Florida, è incredibile, un solo comizio in Florida ha radunato minimo 25.000 persone, non c'è modo che io sia sotto di tre punti nei sondaggi, è che persino i sondaggi sono truccati, ve lo assicuro è tutto il sistema ad essere truccato, ha detto dal palco in Pennsylvania. L'ex segretario di Stato Clinton cavalca l'onda della spaccatura che l'avversario crea insieme al Partito Repubblicano e ripropone pari pari le parole usate nel dibattito. Trump ha insultato e denigrato afroamericani, latinoamericani, musulmani, prigionieri di guerra, disabili e immigrati. Se non fosse un paradosso, nell'insultare è persino democratico, ha detto Clinton. Intanto continua a gonfiarsi il dibattito innescato dal video che rischia di fare alla disgrazia di Donald Trump, il dibattito su una cultura sessista che rende socialmente accettabile l'abuso e l'aggressione sessuale e tra meno di un mese potrebbero essere le elettrici di avere l'ultima parola. Grazie a tutti.